E' stato capitano della nazionale, 228 presenze in azzurro, 17 trofei, un oro ai giochi del Mediterraneo del 2001, un bronzo agli europei del 99, un argento nel 2001, miglior palleggiatrice mondiale nel 98, 4 campionati, 3 Champions League, 3 Supercoppe, 4 Coppa Italia, una Coppa CEV, un campionato spagnolo, non ce la faccio più, quindi basta così, benvenuta a Maurizia. 10 l'ode preparatissimo, grazie. Grazie Maurizia, hai vinto tantissimo in carriera, complimenti, ma insomma non è una novità, sei una delle pallavoliste più importanti della storia italiana. Hai scritto questo libro? Sì, io lo metterò a curriculum perché davvero è... Assolutamente, si chiama Senza Rete, uscirà il 10 ottobre in tutte le piattaforme, Amazon, librerie, lo potete trovare ovunque. La prima domanda, scommetto che quando ti fanno un'intervista sul libro, la domanda che ti fanno è perché hai voluto scrivere questo libro? E te lo chiedo anch'io. La risposta è questo, è da tempo che mi hanno chiesto, mi chiedevano di scrivere una mia biografia, però ho sempre pensato che bisogna avere tanta esperienza, no? Perché non volevo che fosse un libro solo di pallavolo, infatti questo non è un libro solo di pallavolo, è un libro che dice il titolo, no? Senza Rete perché la Rete è sempre stata mia compagna perché l'ho sempre avuta a fianco, divideva la mia squadra dalle mie avversarie, però l'ho voluta togliere, ho voluto raccontare una Maurizia differente che oggi è una donna che lavora, è una donna che comunque è mamma soprattutto e che ha un sacco anche di esperienze. Questo libro è un libro che parla di tante vittorie, di tante cadute, di tanti momenti da gestire velocemente, di momenti insomma di scelte non facili, prese magari anche all'ultimo secondo, però tutte sempre con grande coraggio e a testa alta. Senti, tu hai esordito in A1 a 16 anni, cos'è che ti ha spinto a diventare una pallavolista? Non so se magari tu racconti nel libro che tu hai sempre avuto il mito di Mimì e i ragazzi della pallavolo. Esatto, Mimì è ovviamente il nostro grande punto di riferimento, però io fin da piccolina facevo delle interviste da sola davanti allo specchio e quindi parlavo come se fossi davvero la capitana e quindi difendevo la squadra dalle vittorie, dalle sconfitte, dalle vittorie. Ero piccina, avevo poco più di 8-9 anni e quindi la passione per questo sport è sempre stata grande, sono uscita molto velocemente da casa e ho intrapreso questa carriera non sicuramente facile ecco perché io lo dico sempre, si diventa campioni ma giorno dopo giorno con grandi sacrifici io non mi sono mai tirata indietro. Allora diciamo in questo libro però non c'è soltanto la tua storia professionale, c'è anche una storia personale ed è la storia di una ragazza prima, di una donna poi che ha fatto sempre scelte a volte anche un po' folli diciamo, ha avuto i momenti di follia, insomma la vita l'ha vissuta veramente però hai sempre fatto scelte dove si è presa la responsabilità in prima persona e questo viene fuori insomma dal libro. Qual è la follia più grande che hai fatto nella tua vita? Ma diciamo un foglione fate parecchie, sicuramente tra diciamo la punta di diamante è stata quella di lasciare a dieci giorni dal matrimonio con il grande Gianmarco Pozzecco insomma mandare in fumo matrimonio però è stata anche una scelta importante, io lo dico sul libro gli ho salvato la vita, fondamentalmente è stata una scelta non semplice ecco però il libro racconta tante altre scelte, quella di scegliere una città da un altro perché io ho giocato in tutta Italia dal nord al sud con diverse sicuramente realtà però le ho sempre vissute con grande curiosità e grande passione ecco. Tra l'altro poi all'inizio tu quando sei andata a Perugia hai rifiutato Modena che era un po' la Juventus giusto? Sì, sì. Quindi è stata anche una scelta coraggiosa quella che hai fatto, insomma non tutti l'avrebbero fatto. Sì non sono mai stata una persona che ha fatto le strade più semplici, ho cercato sempre dei percorsi abbastanza più tortuosi ma credo che sia stata la scelta più azzeccata perché comunque Perugia era una bella realtà che puntava molto sui giovani e quindi dovevo mettermi in gioco e crescere forse anche più velocemente, Modena era una realtà diciamo confermata, consolidata però magari avrei avuto anche meno spazio e quindi mi sono giocata alle mie carte. Nel libro ci sono varie citazioni fra le quali una che ti ha sempre accompagnata che è quella di Michael Jordan, con il talento si vince una partita invece con il lavoro si vincono i campionati, insomma tu hai vinti diversi quindi hai lavorato molto diciamo, ti ha sempre raccompagnato un po' a quella frase? Sì diciamo che sono dell'idea che le coppe si vincono quotidianamente giorno dopo giorno e la domenica si va a ritirarle se te le meriti, quindi il fatto proprio di lavorare giorni su giorni, su mesi, su anni, ho fatto pochissime Natali a casa, pochissime vacanze ma questa è la vita di uno sportivo che vuole arrivare in alto, poi a volte ci arriva, a volte no, io ho due bambini piccolini e racconto che comunque è importante, non fanno nessuno dei due pallavolo, anche questa è una grandissima soddisfazione. Ma ecco, il fatto comunque di sapersi sacrificare e di non tirarsi indietro. Racconti anche della tua infanzia, non voglio raccontare tutto il libro, leggo solo la prima parte, poi dopo lo scopriranno, nella tua infanzia è passata anche in questo collegio in Austria, giusto? Era in Germania. Era in Germania, per imparare la lingua tedesca? Sì, che io odio profondamente. Come va la lingua tedesca? Sì, no. L'hai imparata poi alla fine? Diciamo che ero molto piccola e quindi questa cosa di dover imparare assolutamente il tedesco ma perché la mia nonna è austriaca quindi c'era questo, diciamo, voglia che io imparassi questa lingua invece l'ho odiata con tutte le mie forze, infatti oggi parlo inglese, francese, spagnolo e quando sento il tedesco sì, lo parlo però sempre con dei ricordi abbastanza perché era un collegio, non dico terribile, però insomma stavo mesi senza i miei genitori, ero piccina, avevo i miei fratellini piccoli quindi non vedevo l'ora di tornare a casa. Però ti ha aiutato anche? Mi ha aiutato perché... Come anche ti ha aiutato la scuola che ti ha formato anche nel tuo senso di leadership? Ma assolutamente, il collegio diciamo che poi era un collegio estivo, non è che stavo... Sì, sì, no, certo, certo. Però ecco mi ha fatto crescere, ero già la leader di casa perché ero la prima di tre figli, quindi avevo i miei fratellini dovevo proteggere, quindi ero già un po' una piccola capitana, ecco. È vera questa storia che tu i trofei non li tieni a casa? No. E quindi come fai a dimostrare ai tuoi figli che tu... Infatti non ci credono, i miei figli non ci credono. Ma perché oggi basta YouTube, ci metti un secondo, insomma, a svelare? Sì, però non sono... non ho mai voluto esporli, esporli perché credo che ora sia il loro il tempo da vivere, devono essere loro a vincere le loro coppe o medaglie, ma non nello sport, per me i veri protagonisti di casa adesso sono i miei figli, la mia vita è una vita da madre, quindi vorrei che fossero protagonisti della loro vita. Il problema è che spesso e volentieri quando le persone mi fermano, mi dico alla campionessa, sia uno che l'altro, dicono ma io non ci credo mamma perché non vediamo coppe, non ci sono medaglie, quindi non è poi così vero. Ecco, questa è una cosa abbastanza divertente. Ma hanno... loro mi hanno detto che non hanno seguito la tua... insomma, le tue urmine, cioè non gli piace molto la palla a volo? O sì, la seguono, la vedono? No, gli fa proprio schifo. Ah, gli fa proprio schifo. Gli fa proprio schifo, la palla a volo, sono soddisfazioni anche queste. È bello, bello. La bimba fa ginassica artistica e il bimbo invece fa calcio, però hanno una passione per Zaitsev, perché dice, mamma, te sì giocavi, ma Zaitsev è più forte di te, quindi mi stendono anche, mi umiliano anche, però ecco, ne vado orgogliosa, perché poi penso magari avere anche una mamma che ha vinto tanto, la bimba ha giocato a palla a volo, questa rottura di scatole, è meglio fare altri sport, ecco. Quindi non hanno neanche seguito le urmine del papà? Zero, basket anche quello, uno sport secondo loro che non ha nessun senso, insomma siamo soddisfatti di quello che stiamo lasciando, ecco. Allora, ma come mamma tu ti reputi più forte di quando eri in campo? Diciamo, sono molto più felice, sono molto più soddisfatta dei miei giorni, perché è una bella responsabilità, una responsabilità che ti leva l'anima sotto tutti i punti di vista, anche perché tra l'uno e l'altro corrono 12 mesi di differenza, perché per festeggiare la nascita del primo abbiamo festeggiato talmente tanto che dopo due mesi è arrivata la seconda, quindi insomma è come avere due gemellini, tra l'altro che si picchiano dalla mattina alla sera, però io dico ma come mai sono così, però insomma mio marito è livornese, io sono cararina, marmo col scoglio, insomma non sono molto... Vado preso un po' il carattere della mamma, insomma. Assolutamente sì, assolutamente sì, orgogliosa giustamente. Certo, ne vado fiera.